Entro la fine di settembre aprirà la palestra nel complesso degli ex salesiani. Si chiamerà Overcam Sporting Club, società del gruppo E-Work e sarà diretta da Fabio Fabri, alla guida anche dell'omonima associazione sportiva inaugurata lo scorso anno. La palestra sorgerà su due piani, avrà un accesso dalla corte interna del complesso e un altro su Via Diamante Torelli. Quasi un milione di euro l'investimento che recupererà i 1.083 metri quadri del blocco dei salesiani denominato Palestra Castelletto. La filosofia che un po' ha seguito Favenzia Sales è appunto quello del recupero delle funzioni originarie, quindi recuperare un luogo dedicato allo sport, soprattutto per i giovani, e che sia accessibile a tutta la cittadinanza ridando vita a questo cortile con platani secolari, che è il cortile interno che da molta parte dei faentini non è conosciuto, ma che appunto riprenderà vita grazie anche a un accesso che permetterà direttamente di accedere dal parcheggio esterno. L'altra cosa appunto è quello di dare sicurezza, quindi abbiamo consolidato il piano primo per dare dei livelli di sicurezza adeguati alla normativa attuale, soprattutto dopo il terremoto dell'Aquila. Ecco, ci sono appunto due piani, libero accesso anche alle persone con disabilità. Sì, esatto, abbiamo cercato appunto di dare accessibilità e inclusione a tutte le persone, abbiamo messo un ascensore, abbiamo dato anche un accesso direttamente dalle mura, in modo da fare in modo che ci sia accessibilità anche dall'esterno, rendere appunto questo complesso il più accessibile possibile, non più una roccaforte chiusa, ma un luogo con tante aperture che respira e che si collega ai punti nevladici della città. Un punto a cui avete tenuto molto, il piano terra con grandi vetrate per guardare appunto all'esterno. Esatto, avendo un cortile così bello, un cortile così storico e vincolato, abbiamo deciso di togliere tutti i tramezzi e di ricreare questo spazio con delle grandi arcate che permetterà appunto a chi vive la palestra di respirare e di stare a contatto con la natura e non di stare nei capannoni industriali dove spesso sono le palestre fuori dal centro, ma di avere questo contatto con la natura, con l'area, con il cielo, che forse solo questa palestra a Frenza può garantire. A fine estate aprirà la palestra qui ai Salesiani, che palestra vi siete immaginati? Una palestra un po' differente, nel senso che l'obiettivo sarà quello di continuare sulle orme del team sportivo e quindi cercare di dare una continuità alla preparazione atletica, alla preparazione sportiva verso gli atleti. Ovviamente si deve accompagnare a una classica attività di fitness rivolta a un'utenza diciamo comune e la cosa più importante sarà quella dove inizieremo finalmente a lavorare con i bambini, dove dedicheremo tre giorni alla settimana e comincieremo a lavorare nel settore giovanile, che sarà una cosa molto interessante e utile per la collettività. Voi come società sportiva siete molto attivi nel campo del triathlon, dell'atletica. Che tipo di allenamenti specifici farete qui al centro della palestra? Il discorso sarà un lavoro generale per quanto riguarda determinati lavori di gruppo. Dopodiché si cadrà nello specifico sulle richieste magari che avranno i singoli atleti con dei test di valutazione funzionale, con anche l'aiuto e la collaborazione in equip con un medico nutrizionista e quindi si saranno delle cose ovviamente generiche e specifiche in base alle richieste ovviamente. Le parole sulla dotazione, abbiamo fatto un piccolo giro nella palestra, come ve li immaginate questi due piani? Beh, sicuramente molto lucenti e spaziosi, sicuramente degli spazi che a faenza non esistono e di conseguenza uno spazio veramente ad hoc per ciò che ti invoglia a fare attività fisica. Arco Lavori è un consorzio di imprese artigiane di Ravenna. Arco Lavori è una struttura prettamente commerciale che ha come proprio obiettivo quello di permettere ai propri soci, che sono indicativamente più di 400 attualmente sparsi nel territorio italiano con una maggior densità in Emilia Romagna, allo scopo di permettere a questi propri associati il poter eseguire appalti lavori all'interno di appalti pubblici o grossi privati che richiederebbero requisiti che essendo loro imprese prettamente medio piccole non potrebbero avere, quindi non potrebbero andare a realizzare. Il consorzio ha appunto queste certificazioni, questi requisiti che permettono la partecipazione anche ad appalti pubblici di notevole rilevanza con lo scopo appunto di affidare ai propri associati.